E' partita oggi da Bologna ma toccherà tante altre città italiane la 1118 miglia del soccorso, lo vedete un evento on the road che vuole diffondere la cultura del primo soccorso della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza. La carovana attraverserà l'Italia tra le tappe anche Ravenna, San Marino, l'Aquila, Pistoia, Genova e Mantua e poi Roma il 25 ottobre dove verrà ricevuta dalla Papa. Ma sentiamo l'organizzatore di questa iniziativa, il medico bolognese Cristian Manuel Perez. I comuni che ci hanno gentilmente concesso il patrocinio e l'uso del suolo pubblico organizzeremo degli eventi in piazza con queste tre tematiche, il volontariato in ambulanza, il primo soccorso e la sicurezza stradale. In alcuni comuni abbiamo organizzato anche delle lezioni presso gli istituti superiori o scuole medie, passeremo da Ravenna e come tappa finale di oggi c'è la Repubblica San Marino che ci ospita e gentilmente ci riceveranno le autorità sanitarie. Partiremo domani attraversando un po' le zone terremotate e rientriamo appunto il 29, domenica 29 a Bologna dove si concluderà questo primo primo 1118 miglia del soccorso. Grazie a tutti.